Io creo storie nel mondo vero. Da l'alto, da l'alto! Diciamo che sono un compositore della realtà. Che cazzo fai lassù? E mi ha detto vai in alto, sempre più in alto, sali, sali e qua sto! Diciamo che sei uno che organizza truffe per fregare i soldi alla gente. Alibi? Adesso piangi? Godi? Come ha detto scusi? Sogniamo proprio di vivere così. Scappa! Come se fosse un romanzo. Scavalta, scavalta dai! Pappa culo! Siamo ospiti. Il dottor Pisello. Ospiti di chi? Ma che ne so? Pier Silvio crede in me. Mi ha affidato la regia di una fiction in 24 puntate. È la magia dell'arte. Spargi gioia e prendi grana. Il festival non lo faccio. Dal 19 novembre al cinema. Il festival non lo faccio. Amore. Mi ha detto. Mi ha detto. Il festival non lo faccio. Grazie a tutti.